Senta, poi, è un vantaggio invece che lei sia il segretario in una fase in cui forse bisognerà riannodare per la prima volta un accordo di maggioranza anche con libere uguali? Beh, in parte forse sì, sicuramente questa è stata una vocazione che è partita dall'inizio, ma devo dire anche in queste ultime settimane lo stesso Renzi non ha mai escluso per dare vita a un governo la necessità di aprire alle forze politiche come libere uguali che devono costituire una maggioranza. Io farò di tutto, ho tentato di farlo anche alle elezioni europee, di garantire al massimo l'unità del Partito Democratico e di un fronte largo. Quello che ho detto oggi nella relazione, mi permetto di dire una cosa che io reputo importante, è superare comunque il modello del contratto che era la base del governo Conte. Io penso che tanti problemi nascano da lì, cioè l'idea di un accordo quasi tra punti separati e invece ci sarà bisogno ora della condivisione di una visione comune, di un progetto comune di sviluppo, della condivisione di un'ipotesi di crescita per questo Paese, di politiche ambientali e di sviluppo. E cioè superare un po' l'idea di due programmi un po' incollati tra loro, con due fazioni che in Cagnesco si guardano per difendere i propri punti e che poi hanno prodotto come esito quello che abbiamo visto. Io personalmente a questo modello non ho mai creduto, anche quando fu proposto 15 mesi fa. Ieri abbiamo visto l'esito di quel modello e oggi nella relazione mi sono permesso di dire a tutti, innanzitutto al mio partito, ma anche agli eventuali partner, se lanciamo questa scommessa dovremo cambiare anche un modello. O c'è la condivisione di un percorso comune, di punti politici comuni, oppure tutto sarà più fragile o più difficile, è meglio andare a votare.